Una vita salvata, un lavoro di squadra vincente, una storia a lieto fine. È quella di un paziente operato nei giorni scorsi all'ospedale di Bosco Trecase per un aneurisma della orta addominale. Un intervento che ha coinvolto vari presidi ospedalieri dell'ASNapoli 3 Sud e ha visto in prima linea il dottor Francesco Pignatelli, primario dell'unità operativa di chirurgia vascolare all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Siamo in compagnia del professor Francesco Pignatelli, primario del reparto di chirurgia vascolare qui all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Una vita salvata in questi giorni all'ospedale di Bosco Trecase. È stata operata una persona per un aneurisma della orta addominale. Come è andata? Il paziente era affetto da un aneurisma della orta addominale sottorenale. È venuta la nostra osservazione in ambulatorio dove ha portato un eco che mostrava la presenza di questa dilatazione della orta di circa 6 cm. È stata subito richiesta un attack. Dall'attack si è evidenziata che questa dilatazione era di 7,8 cm. Praticamente a rischio rottura da un momento all'altro. Quindi è stato operato giusto con l'interessamento dei vari presidi ospedalieri perché la sala angiografica è stata messa a disposizione dal dottore Varricchio a Bosco Trecase. I tecnici di radiologia grazie alla dottoressa Mangoni di Santo Stefano che è la primaria di radiologia di Nola e noi che dall'ospedale di Torre del Greco siamo andati ad operare a Bosco Trecase. Quindi è un intervento che ha coinvolto diverse strutture ospedaliere, diverse discipline specialistiche. Allora è stato fatto un lavoro di squadra proprio per far sì che si potesse operare l'ammalato e salvargli la vita. Noi abbiamo optato per fare un intervento endovascolare che è un intervento di minima, cioè praticamente si posiziona un'endoprotesi che si parte da due piccole incisioni a livello di linguine destra e sinistra e poi all'interno della orta si posiziona questa protesi. È un intervento mini-invasivo che però ha bisogno appunto di un angioradiologia. Il caso dell'aneurisma della orta addominale è un caso in cui intervenire tempestivamente è fondamentale perché si rischia anche la morte. Sì effettivamente una delle complicanze dell'aneurisma è proprio la rottura e dato che il paziente aveva questo aneurisma molto grande di circa 8 centimetri la rottura sarebbe stata imminente. Quindi è importantissimo fare una prevenzione che basta fare appunto un eco, un eco color doppler della orta, tutte le persone al di sopra dei 50 anni proprio per evidenziare se ci fosse questa patologia. In effetti questa è una patologia che se presa in tempo salva la vita e l'intervento è tra virgolette abbastanza semplice senza grossi rischi per l'ammalato. Il paziente è stato dimesso dopo tre giorni. Il paziente è tornato a casa. In effetti martedì è stato ricoverato a Torre del Greco, mercoledì è stato operato, giovedì è ritornato qui a Torre del Greco e venerdì mattina l'abbiamo dimesso quindi praticamente con una diligenza di tre giorni. Dunque in questo caso è stato fondamentale anche il lavoro di squadra? Indubbiamente è stato fondamentale perché se non si fossero attivati tutti i direttori sanitari dei tre ospedali non saremmo riusciti a poter fare questo grosso intervento qui.